Chi era Leonardo del Vecchio, imprenditore italiano, fondatore e patron di Luxottica, scomparso nella giornata di ieri? E come sono andati invece i ballottaggi delle elezioni amministrative che si sono tenuti domenica? Parliamo anche dell'ondata di calore estremo che sta avvenendo in questi giorni in Italia, con tanto di incendi ed esplosioni a Roma, dell'intervento di Greta Thunberg al festival di Glastonbury e del G7 in Baviera. Io sono Andrea Linocenti, oggi è il 28 giugno 2022 e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! È morto Leonardo del Vecchio all'età di 87 anni ed è la notizia con cui molti quotidiani scelgono di aprire questa mattina. Leonardo del Vecchio era il fondatore di Luxottica, che è una delle più grandi e prestigiose aziende italiane, nonché una delle più grandi aziende che si occupa di occhiali. La storia di Del Vecchio è davvero particolare perché sono un po' tante storie messe assieme. Come racconta il post, Del Vecchio era nato il 22 maggio 1935 a Milano da una famiglia di origini molto modeste ed era cresciuto in un orfanatrofio. Nel 1957 si era trasferito in Trentino Alto Adige per lavorare come operaio in una fabbrica di incisioni metalliche e l'anno successivo aveva deciso di aprire la sua personale bottega ad Agordo, che presto, grazie al successo della bottega stessa, si era trasformata in una vera e propria azienda. Luxottica, per l'appunto. Luxottica si è espansa molto nel corso degli anni, prima realizzando occhiali per conto di terzi, poi iniziando a produrre in proprio e negli anni 80 ha iniziato a rilevare diverse aziende produttrici di occhiali, aumentando molto la propria presenza nei mercati internazionali e quotandosi infine in borsa nel 1990. L'anno dopo acquista l'80% dei principali marchi al mondo, diventando la più grande produttrice di occhiali a livello globale e arrivando a creare una sorta di monopolio. Poi nel 2018, ultimo capitolo, si fonde con la francese Essilor, che invece era ed è la più grande azienda al mondo produttrice di lenti, dando vita a un nuovo colosso del settore che si chiama Essilor Luxottica. Ora, la storia del vecchio è particolare anche perché era un imprenditore particolare, era un imprenditore ben voluto dai dipendenti che consideravano l'azienda un po' come una grande famiglia. Vi leggo quello che scrive il giornalista Lorenzo Toso sul suo profilo Facebook. Scrive, se ne va, un simbolo del Made in Italy e soprattutto di un'imprenditoria illuminata in cui i dipendenti sono prima di tutto persone, parte di una grande famiglia. Negli ultimi anni, durante la pandemia, ha prima donato 10 milioni di euro per la lotta contro il coronavirus, poi è andato oltre, ha integrato totalmente la cassa integrazione dei suoi dipendenti, ha riconosciuto un contributo welfare di 500 euro a chi continuava a lavorare e infine l'intero gruppo dirigenziale si è ridotto del 50% lo stipendio, per dare l'esempio. E poi da sempre, asili indio-aziendali, vacanze e studio per i figli dei dipendenti, bonus spese, investimenti nella formazione, il patto generazionale di ricambio fra genitori e figli, insomma, un visionario. Queste sono le parole di Lorenzo Tosa. E poi ci sono anche altre storie, cioè quella dell'uomo che si è fatto da solo, quella dell'imprenditore filantropo, quella dell'esempio del Made in Italy, quella del personaggio schivo e riservato che non voleva apparire ma preferiva che si parlasse della sua azienda e non di lui, e così via. Le ho ricostruite, vi dico la verità, non conoscevo molto bene il personaggio, solo di nome, le ho ricostruite leggendo un po' gli articoli di giornali. Ed è curioso anche vedere come ogni giornale abbia dato rilievo a un aspetto oppure a un altro di questa vicenda e abbia costruito attorno a questo una sua particolare narrazione. Sono arrivato a chiedermi, alla fine delle varie letture, ma quindi chi era Leonardo del Vecchio? Quindi ho chiesto l'Umi a Fabrizio Cozza, che è il fondatore degli imprenditori sovversivi, è un profondo conoscitore del mondo dell'imprenditoria in Italia e non solo, che mi ha risposto dicendomi, permettendo che non aveva una conoscenza diretta del personaggio, ma mi ha detto, so soltanto che faceva parte di quella ormai sempre più rara categoria di imprenditori che non prende solamente, ma cerca anche di restituire qualcosa. Quindi stile Ferrero per intenderci. L'idea che mi sono fatto è che probabilmente non fosse un visionario ai livelli di Olivetti, ma comunque diverse spanne sopra molti imprenditori contemporanei. Sempre grazie a Fabrizio ho contattato una sua dipendente, Valeria Rivas, che lavora da 15 anni in LuxOptica e che mi ha mandato un contributo audio e che vi lascio ascoltare, perché secondo me è molto interessante e insomma è una fonte diretta che ci puoi raccontare dall'interno della sua azienda che clima si viveva. E guarda, io ho lavorato per otto anni nella palestra aziendale di LuxOptica, quella per i dipendenti, e ora lavoro da sei anni in LuxOptica come operaia. È arrivata la notizia intorno alle nove e mezza stamattina in reparto mentre lavoravo e l'impressione, ma ti parlo, per me e per tutti i miei colleghi è proprio una perdita, una perdita importante, la perdita comunque di un grande uomo prima che di un grande imprenditore, perché comunque è sempre stato presente per quanto anche in azienda qua ad Agordo, passava ancora per i reparti spesso, arrivava l'elicottero e sapevi che stava arrivando. Noi lo chiamavamo nonno, molto familiarmente, nel senso che fra di noi i colleghi lui era il nonno, era il nonno di tutti. Quindi è stata davvero una cosa che non ci si aspettava proprio così improvvisa e una perdita umana e molto molto sentita da parte nostra, questo ti dico, prima che proprio la perdita di un grande imprenditore che si è sempre tenuto fuori dalle beghe di politiche, e ha sempre fatto il suo lavoro in maniera degna e in maniera molto umana. Quindi ecco, questo sì. Vediamo con che spirito andremo al lavoro domani, sarà più difficile sicuramente, però è giusto lavorare per lui, per quello che ha fatto e per quello che ci ha insegnato. Insomma, un personaggio decisamente interessante. Poi, se vi vengono in mente, avete altri spunti per approfondire, sono curioso, perché devo ammettere che appunto non lo conoscevo così bene e mi interesserebbe approfondire da vari punti di vista. Domenica invece ci sono stati anche i ballottaggi delle elezioni amministrative, li abbiamo un po' trascurati, perché ieri abbiamo parlato principalmente della questione dell'aborto negli Stati Uniti, che fra parentesi sta continuando a sollevare un certo putiferio con manifestazioni in tutto il paese, una guerra interna alla Corte Suprema, e insomma un sacco di altre cose. Comunque, giusto due parole, conviene dirle sulle elezioni amministrative, perché, come spesso accade, i ballottaggi hanno un po' ribaltato i risultati del primo turno in molti comuni, tant'è che se all'indomani del primo turno i giornali parlavano di trionfo del centrodestra, adesso parlano di sfatto del centrodestra, crollo del centrodestra, questione interna del centrodestra e vittoria rivincita del PD del centrosinistra. e già da qui abbiamo due primi elementi interessanti da analizzare. Il primo è come gli umori dell'elettorato siano variabili, e quindi come un voto in un certo istante fotografi ormai una situazione appunto quasi istantanea, che potrebbe cambiare veramente il giorno dopo. E questo un po' forse perché le persone cambiano idea facilmente, ma tanto anche perché è il corpo elettorale che cambia idea facilmente, perché cambia il corpo elettorale stesso per via dell'astensionismo, che è altissimo. Pensate che a quest'ultima tornata parliamo del 60% quasi dell'astensionismo, hanno votato circa il 42% degli elettori, degli aventi diritti. e quindi è chi sceglie di andare a votare che poi sceglie effettivamente chi vince l'elezione, ma chi sceglie di andare a votare è una piccola percentuale rispetto a tutto il corpo elettorale, che ancora è una percentuale, diciamo, rispetto a tutte le persone che vivono in Italia. E quindi anche una settimana di distanza, se a votare vanno persone diverse, può far registrare una differenza enorme fra una votazione e l'altra. La seconda cosa da notare è che alla luce di questo scenario il peso che i giornali, ma un po' anche la società in genere, danno alle elezioni mi sembra un po' spropositato. Così come diventa sempre più paradossale parlare di trionfo e disfatta delle varie fazioni in così poco tempo e senza che sia cambiato niente all'interno del programma elettorale o delle azioni fatte da quegli stessi politici. Quindi sono dei feedback che arrivano abbastanza casuali e quasi sul nulla. Sono azioni e reazioni molto veloci, ma che non ci dicono niente sulla qualità o sul programma appunto di un certo partito o di una certa forza politica. Detto ciò, non vi rifaccio il solito pippone sul fallimento della democrazia rappresentativa elettiva e sulla necessità di trovare nuovi modelli, ma ci siamo capiti. Comunque, in tutto ciò, annoto la vittoria a Verona di Damiano Tommasi, ex calciatore della Roma, che sembrava un corpo alieno ai tempi, al mondo del calcio, tanto era garbato, gentile, è veramente un po' fuori dagli schemi in questo, e altrettanto lo sembra adesso al corpo della politica. Eppure in campo era forte e fuori dal campo lo cambiava in meglio lo sport, e chissà che questa cosa non gli riesca anche in politica, quindi così, in bocca al lupo. Va bene, cambiamo argomento, fa caldo, fa proprio un gran caldo, sto sudando anche qui, se state guardando i video su YouTube, lo vedete in diretta. Quella di ieri è stata una giornata storica, in negativo per il nostro paese, perché con 40 gradi a Firenze, Roma, e in tante altre città, è stata registrata la temperatura record per il mese di giugno da quando esistono le misurazioni. E non so, questo nuovo clima non è un granché, preferivo quello vecchio, quindi se è possibile, se si potesse riavere indietro, non sarebbe così male. A Roma, per non farci mancare niente, è divampato anche un maxi-incendio che è nato probabilmente proprio per il caldo estremo e la siccità, si è sviluppato nella zona nord-ovest della capitale con le fiamme che hanno poi coinvolto dei cavannoni industriali e all'interno di questi cavannoni si trovavano alcune bombole GPL che, secondo le ricostruzioni, sarebbero appunto esplose dando ulteriore forza al robo. Sono state evacuate diverse zone, alcune palazzine familiari, un centro estivo, non sembrano esserci morti ma varie persone sono state ricoverate per l'intossicazione dovuta alle fiamme. Cambiando argomento, invece, faceva caldo anche al festival di Glastonbury in Inghilterra, tornato ad aprire i battenti dopo due anni di chiusura per pandemia. Anche se lì a incendiare il clima, oltre alla crisi climatica, ci hanno pensato Paul McCartney che ha fatto una scaletta con 38 canzoni e dueti con Bruce Springsteen e Dave Grohl a 80 anni suonati appena compiuti più o meno sempre che ovviamente il sosia quando è stato sostituito avesse la sua stessa età e non fosse un po' più giovani ma questo ovviamente non lo possiamo sapere. E Greta Thunberg che invece dal palco del festival ha esortato i presenti a agire subito per fermare la crisi ecologica e climatica e la distruzione degli ecosistemi. E quindi insomma interessante che anche in un festival musicale messaggi ambientalisti inizino ad arrivare in maniera forte. In tutto ciò ultima notizia del giorno oggi c'è la terza giornata terza e ultima giornata del G7 nel castello di Elmau in Baviera che poi è un G7 per modo di dire dato che A i sette paesi che ci fanno parte erano un tempo le sette economie più grandi del mondo ma non lo sono più da un pezzo e B questa volta c'erano invitate anche l'Indonesia il Senegal il Sudafrica l'India e l'Argentina per parlare di gas e petrolio russo e non solo. Per ora l'andamento sembra la direzione sembra quella di un accordo sul cosiddetto price cap sul petrolio e gas russo nuove sanzioni per le violazioni dei diritti umani i crimini di guerra e il furto del grano ucraino colpendo compagnie private che lavorano per l'apparato militare russo e l'impegno così un po' sempre indefinito a sostenere l'Ucraina ad oltranza. L'incontro sembra avere anche sancito ulteriormente l'asse Roma-Berlino che paura fra l'altro per investire in nuove infrastrutture per il gas a margine del G7 Draghi ha detto ci sono esigenze a breve termine dettate dalla guerra in Ucraina e il minor flusso di gas dalla Russia che richiederanno investimenti ampi nelle infrastrutture per il gas per i paesi in via di sviluppo e non solo. Fuori dal castello fuori dal luogo dove si temeva l'incontro qualche centinaia di manifestanti protestavano con cartelli con scritte come cancellate il debito per il clima oppure proteggere il clima invece di armarsi. E con queste parole io direi che posso salutarvi qua vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di un rassegno sempre a partire dalle 8 su canali youtube speaker e spotify di tale cambia nonché sulla pagina dell'assegna stampa di tale cambia.org e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.